E' la differenza di posizione dei motori rispetto al monotension, sono in linea, due prezzi E' una cascata di frenanti che lo rende priorizzare, agli altri, tutti i voltanti, verso la parte del motore, alla paletta, avanti Dall'accanto della Lunga Dola, città che vengono battezzata per un legge di italiano Signori dello staff, state giù per piacere, il pubblico appagato vuol vedere Grazie Sì, questo è stato in campo, non distruirsi i camerini anni. Quando si vede, dopo di terra, guida la lega meritoria, il cielo del marzo di Porto, il sovraspire, alla legnazione della categoria libera, nella gara di avventura, generata 2014. E' finito in campo. Tutto pronto per Max, il buon roma, la scelta di Porto da Spirit. La rimuola, c'è la madera Cacchi e la deve arrivare per essere il primo. Durissimo oggi, un forno EMI davvero in splendida forma, ma mai dire mai in bocca al lupo allo splendido team assolta. Ahim! Ahim! Grazie a tutti.